Salve a tutti ragazzi, sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo arrivati qui, ecco già mi impappino, mi impappino l'emozione incredibile. Siamo arrivati qui oggi in quello che sarà l'ultimo episodio della carriera allenatore con l'Inter, ragazzi. Sì, 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 purtroppo è così. Questo è l'ultimo episodio della carriera allenatore con la nostra Inter. Ragazzi, io farò un lungo discorso dopo la partita contro la Lazio, ovvero l'ultima partita della stagione. Farò un discorso dopo. Prima volevo ringraziarvi tutti quanti, tutti quanti per il supporto del video precedente, quello della finale di Champions League. Per chi se lo fosse perso ovviamente ve lo lascio qui e c'è anche il link in descrizione. Ho fatto un montaggio, secondo me, molto ben riuscito. Un montaggio che è stato molto faticoso anche, ma ho visto che avete apprezzato tutti quanti, Interisti e non. E per questo vi ringrazio e questa è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, perché sono riuscito a fare amare ovviamente questa carriera agli Interisti e sono riuscito a far piacere e a far emozionare anche persone che tifano per altre squadre. Questa cosa voi la sapete, ve l'ho sempre detta, sono veramente contento e orgoglioso di voi. Siete veramente molto sportivi, siete fantastici veramente. Vi ringrazio, vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato a questa serie, sperando ovviamente che anche la prossima serie abbia tanto successo e vi piaccia tanto. Ora ci andiamo a giocare la finale di Coppa Italia ragazzi, ma non scappate dopo la partita. Vi farò vedere gli highlights, ma dopo ragazzi, sotto, sia nei commenti che in descrizione, vi lascio il link per lo Stropol per andare a votare in che campionato andremo a fare la prossima stagione. Quindi mi raccomando ragazzi, se volete andare già a votare, andate in descrizione, c'è il link per il sondaggio. Andate a votare il campionato, ma comunque dopo farò un discorso completo anche su questo. Se intanto volete andare a votare prima di vedere la partita, per me non ci sono problemi. Dopo vi dirò ovviamente anche le squadre che potremmo scegliere. Allora, giochiamoci questa finale di Coppa Italia, importantissima per eventualmente il sogno triplete che dovrebbe continuare. Ed eccoci qua allo Stadio Olimpico, Inter-Lazzo, finale di Coppa Italia. Sarebbe bellissimo portarsi a casa questa Coppa per concludere qui il sogno triplete. Questa è l'ultima Coppa papabile, diciamo così, la Coppa Italia. Questo è il cammino delle due squadre. Noi abbiamo incontrato l'Empoli, la Roma e il Milan, mentre l'Azio il Verona, il Sassuolo e la Juventus. Diciamo che come in Champions League il nostro cammino è stato decisamente il peggiore. Forza Inter e sempre sul pezzo. Attenzione alla lastra, subito pericolosa con Ravel Morrison, che corre tantissimo. In questo gioco è molto forte Morrison. Nella realtà purtroppo vede pochissime volte il campo. Attenzione al cross in mezzo, Nardi si trova il pallone lì, ancora Nardi. Il tiro non so di chi, però ha tirato una bella sassata. Per fortuna centrale, Nardi l'ha tenuta lì in due tempi. Può andare Candrea, va veloce, c'è Varan su di lui, Musacchio chiude. Poi rischia qualcosa, sempre su Morrison. Facciamo ripartire Lewandowski, vediamo se ha la possibilità di vincere fisicamente contro Vinicius. Attenzione a Vinicius, che perde palla. Lewandowski, davanti a Marchetti, il tiro di Lewandowski. Palo. Prima occasione dell'Inter, attenzione, basta. Oh mamma mia ragazzi, cosa sta succedendo. Griezmann. Lewandowski, di tacco per Cianoglu. Il sinistro, Vinicius, cosa ha fatto? Cosa ha fatto Vinicius? Lewandowski, bella palla per Antoine Griezmann. Forse è troppo lungo, no! Griezmann riesce a metterla in mezzo, Vinicius. Interviene. Basta, la mette in mezzo, Musacchio prova a chiudere e non ce la fa. Nardi blocca. E finisce quel primo tempo. 0-0. Un paio di occasioni da una parte e dall'altra, diciamo così. Beh, io ho tirato in palo, vabbè, perché non segno i pali, ok. Attenzione a Maurizio che perde un brutto pallone con Tielemans. Tielemans può far andare Cianoglu. Cianoglu! Il tiro di Cianoglu! Marchetti che parata. Attenzione alla Lazio. Biglia, Cataldi, Cataldi, appena entrato Cataldi! 1-0. Grande scambio qui tra Biglia e Cataldi. Rivediamo. Biglia. Cataldi, Biglia, gran triangolo. E qui Nardi non può niente. 1-0, Cataldi. 5 minuti alla fine del primo tempo. 5 minuti alla fine del match. Siamo già in attacco totale, purtroppo. Facciamo molta fatica. La Lazio si sta chiudendo alla grande. Lewandowski. Lewandowski entra in area, De Vrij lo chiude. 3 minuti di recupero. Florenzi. Dai! E finisce qua. Abbiamo perso la finale di Coppa Italia. Ha vinto la Lazio 1-0. Gol di Cataldi al settantesimo. Non sono riuscito più a fare niente. La Lazio si chiudeva. I miei passaggi erano tutti sbagliati. Ed è finita così. Purtroppo non c'è il triplete. Purtroppo non c'è il triplete. Ma comunque va bene così. Va bene lo stesso, dai. Peccato. Peccato per i ragazzi che ci stava. Ci andava bene vincere un'altra Coppa. Comunque complimenti alla Lazio che si è comportata veramente molto bene. Ed ecco la Lazio che alza la Coppa Italia. Complimenti. Complimenti a loro. Sono riusciti a battere comunque la nostra squadra che si è fatta valere sia in campionato che in Champions League. Ed eccoci qua ragazzi. Ho dovuto terminare comunque la stagione perché io in ogni caso vorrò portare avanti gli europei e i mondiali con la nostra nazionale italiana. Sicuramente lo farò. Come avete capito ormai non continuerò con l'Inter anche perché sarebbe una cosa realistica. Ma guardate il nostro budget. Abbiamo 75 milioni di budget praticamente. Potremmo comprarci quasi chiunque. Sinceramente non sarebbe stimolante anche fare un altro campionato in Serie A. E non sarebbe un gran che dal punto di vista degli episodi che vi potrei offrire. Mentre per quanto riguarda gli incarichi non sono disponibili gli incarichi. Prima di terminare la stagione avevo guardato c'era la Fiorentina e l'Offenheim. Sarebbe stata una cosa davvero davvero molto. Una cosa non realistica. Quindi come avete capito si conclude qua la nostra carriera con l'Inter. Giocatori fantastici. Veramente incredibili. Ho fatto crescere piccoli fenomeni perché Paco Alcassar è arrivato che se non sbaglio era 83. Filipe Anderson se non sbaglio era un 79. C'era un Oglu un 79. Tielemans ancora meno. Sono cresciuti tutti da Griezmann a Lewandowski. Comunque una squadra incredibile. Una delle migliori squadre che io abbia mai composto. Diciamo così. Quindi ormai ragazzi come avete capito non resterò più all'Inter. La mia esperienza sulla panchina dell'Inter finisce qui. Me ne vado comunque con tante soddisfazioni tolte. E peccato per quella finale di Coppa Italia persa. In ogni caso il mio obiettivo era quello di riportare la mia squadra del cuore sul tetto d'Europa. E ci sono riuscito. Obiettivo diciamo raggiunto e completato. E sinceramente non voglio andare in un'altra big continuando sempre questa carriera. Non voglio andare in un'altra big per provare a rivincerla. Per provare a rivincerla Champions League. Ormai l'ho vinta con l'Inter e non sarebbe, ormai non mi darebbe più delle motivazioni andare in un'altra big, fare un mercato assurdo e provare a rivincerla Champions League. Non mi darebbe motivazioni. E sarebbe appunto realistico, non sarebbe molto realistico se io in questa stagione andassi magari nel calciomercato in una squadra più piccola. Dopo una stagione così non è reale che io vada in una squadra media, piccola di un altro campionato. Quindi per questo la mia idea è quella di iniziare una nuova stagione. E farò così. Inizierò una nuova stagione, un nuovo salvataggio con una squadra medio-piccola. Ovviamente che non abbia un budget enorme. Perché per esempio il Valencia è una squadra media che ha 70 milioni di budget. E sono decisamente troppi. Io volevo stare più o meno sui 30 milioni di budget, in giù ovviamente, una squadra medio-piccola da rifondare, da ricostruire, cercando di portarla, magari non dico in vetta all'Europa perché sarà molto difficile, quasi impossibile, ma ad alti livelli nel giro di due, tre stagioni. Quindi con la prossima squadra medio-piccola vorrò portarvi dalle due alle tre stagioni fino all'uscita probabilmente di FIFA 17. Vedremo come andrà la nostra esperienza. Quindi una squadra da rifondare partendo dai giovani con l'esperienza di giocatori che ci sono già appunto in quella squadra. Quello che mi motiva, che mi dà motivazioni adesso è iniziare una nuova carriera con una squadra medio-piccola, cercando di portare al suo interno giovani che magari voi non conoscevate, per esempio come ho fatto con Osiacup, che è abbastanza giovane, ma alcuni di voi non lo conoscevano. Mi piacerebbe tantissimo andare a scovare giovani talenti da portare in squadra, cercare di farli crescere tantissimo per poi farli conoscere anche a voi. Questo è ciò che mi dà motivazioni, proprio per questo che voglio iniziare una nuova carriera. Ma come funzionerà? Come funziona? Allora ragazzi, vi lascio sotto in descrizione e nei commenti un link dove voi dovrete votare il campionato in cui andare e adesso vi dirò tutto. Voi dovrete votare il campionato in cui andare, appunto tramite il link, è uno Stropol, quindi basterà selezionare il campionato e il voto andrà proprio su quel campionato. Inoltre adesso vi dirò una lista di squadre per campionato che ho intenzione di, che mi stimolano, che mi danno la voglia di provarle e sotto nei commenti voi dovrete scrivere appunto la squadra che più vi interessa. Vi farò poi una lista anche qui a schermo così non avete le idee confuse. Quindi per ricapitolare, nei commenti il link e in descrizione il link per votare il nuovo campionato. E se voi voterete, non so, Bundesliga, scrivete nei commenti la squadra, una delle squadre che vi dirò adesso. Ho scelto quattro campionati, ragazzi, perché non tutti mi ispirano. Il campionato che mi ispira di più è la Premier League, ovviamente. È il campionato, secondo me, più bello del mondo. Per la Premier League ho scelto, se non sbaglio, quattro squadre, esattamente. Mi piacerebbe poter utilizzare nella Premier League l'Aston Villa, che in questo momento è in una posizione assurda perché dovrebbe essere l'ultima in classifica, se non sbaglio. Quindi Aston Villa, Newcastle, che è quella che mi interessa di più, mi piacerebbe tantissimo poter allenare il Newcastle. Lo Swansea, quindi fare il guidolino della situazione e il Crystal Palace. Queste sono le quattro squadre che mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League. Quindi, se per esempio a voi interessa che io vi porti la Premier League, andate nel link a votare Premier League. E poi sotto nei commenti mi scrivete una squadra tra Aston Villa, Newcastle, Swansea e Crystal Palace. E ovviamente poi io andrò a recuperare tutti i voti e vedrò chi è stato scelto maggiormente. Secondo campionato, la BBVA, ovvero il campionato spagnolo, la Liga Spagnola. Mi piacerebbe allenare tre squadre di questo campionato. L'Atletic Bilbao non sarebbe per niente male. Il Villareal, anche questa è una squadra che è molto tosta e interessante. E come ultima il Siviglia. Siviglia che è già comunque una squadra abbastanza, non dico formata, ma comunque molto interessante. Forse non già pronta, ma un qualche innesto potrebbe già essere papabile per una Champions League. Quindi forse il Siviglia la terrei per ultima. In ogni caso ragazzi, se vi interessa che porti una di queste tre squadre, andate a votare nel link, appunto, votate BBVA o campionato spagnolo. E sotto nei commenti scrivete Atletic Bilbao, Siviglia o Villareal. Ultimo campionato che mi interessa di meno, devo dire la verità, è la Bundesliga, il campionato tedesco. E ho scelto due squadre. Lo Schalke 04, il Borussia Munchengladbach e l'Offenheim, signori. Le prime due, lo Schalke e il Borussia Munchengladbach, sono squadre secondo me da rifondare con già qualche giovane all'interno. Molto interessante. Mentre l'Offenheim, secondo me, potrebbe essere la squadra giusta per me. Forse la più interessante tra queste, perché ha già giovani al suo interno e ho la possibilità di portare altri giovani nella squadra. Quindi ragazzi, se vi interessano una di queste tre squadre, andate a votare nel link la Bundesliga e votate una delle tre squadre che vi ho detto. Ricapitolando, qui a schermo vedete tutte le opzioni che vi do. Nella descrizione e nei commenti c'è il link per scegliere il campionato. Quindi voi scegliete il campionato con quel sondaggio. Il campionato che avrà più voti verrà scelto da me e poi andrò a guardare le squadre che sono state più votate. Quindi voi dovete votare il campionato nel sondaggio e sotto nei commenti scrivere una di questa squadra. Per esempio, se voi andate a votare la Premier League, votate Premier League, voglio che mezzo porti la Premier League, voto Premier League. Quale tra queste squadre vorrei che allenasse? Aston Villa, Newcastle, Swansea o Crystal Palace? Vado a scrivere sotto nei commenti la squadra che mi interessa di più. È molto semplice, davvero molto molto semplice. Così importantissimo ragazzi, non farò più la carriera con il Leicester. Perché io prima che il Leicester diventasse quello che è diventato, avevo già iniziato una carriera a suo tempo. E questa è praticamente la rosa che ho. Quindi Dragowski, Gaia, Sule, Stones, Bellerin, Jace, Buzzer, Quincy Promise, Buffal, Douglas Costa, Embolo e tanti tanti altri giovani. Quindi non sarebbe utile fare, secondo me, un'altra carriera con il Leicester. Comunque magari vi parlerò meglio di questa carriera in un prossimo video. Vi dico le mie preferenze, sinceramente. Newcastle sarebbe una figata, secondo me. Villa Real, Offenheim. Spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande fatemele sotto nei commenti. Io vi risponderò così voi avete la possibilità di votare. Mi raccomando ragazzi, ho bisogno dei vostri voti. Più voti mi date, più riesco a capire qual è la cosa che preferite. Mi raccomando, scrivete sotto nei commenti anche la vostra squadra. La squadra che vorreste che io allenassi tra queste che vi ho detto. Spero di ricevere tanti voti. Mi raccomando ragazzi, supportatemi sempre. Un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero di essere stato chiaro. Se avete qualche dubbio, scrivetemelo sotto nei commenti. La nostra esperienza con l'Inter si conclude qua. Vi ringrazio ancora di cuore. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Al prossimo video con una nuova carriera natore. Un saluto da Menzo. Alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.